Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti da ZDH Diego oggi siamo su un gioco nuovo che si ha Powerwash Simulator questo è un gioco che si deve pulire ma se a scala questo gioco si deve pulire tutte le cose e quest'oggi se ci vedete già questo lì ovviamente non è il primo o il secondo il secondo era troppo lungo non riusciamo a farvelo vedere invece il primo era una specie di tutorial quindi ora vedrete io e Luca che puliremo visto che ciao ragazzi ciao comunque credo che vi vedrete in altri video oggi siamo in questo nuovo gioco ah dicendo ora che vi vedete a Luca visto che questo gioco è molto lungo questo gioco è molto lungo poi tipo almeno la strana lì erano a 10% taglierò per poi arrivare a così a 30% perché veramente venirebbe un video di un'ora nell'altro lì sono stati non so quanto un'ora e passa pure perché veramente mi fa entrare non sei entrato no sì ci sono pure i ragazzi testimoni ti giuro ti posso mandare anche lo schermo ma c'è il tuo nome là non è che stai entrando lo dobbiamo lo dobbiamo credere che non lo fa entrare no è che siccome ti devi stare ferma e pulita eh devi stare ferma e faccia pulita perché ora mi sta contando anche che tu non hai pulito quindi sta cercando di caricare quello che tu non hai pulito me lo sta dicendo allora taglio finché non arriva Luca che se no non è divertente ecco è tornato Luca avevamo scoperto il motivo anzi ha scoperto il motivo e Luca facciamo di solito questa cosa per fare più veloce ognuno fa delle sue parti sempre sto facendo lo staggioso e Luca fa un'altra cosa mi sa che al 10% ci facciamo tra tanto tempo giostrina pulita il manubrio della giostrina altro manubrio della giostrina pulita pensate che ancora bubile tutto questo il grosso problema è che ancora siamo al 2% scusa ci passo e allora ho capito una nuova cosa di E che c'è? in base a conto è grande pulisce di meno pulisce l'essenziale è più grande però pulisce di meno il verde è potentissimo pulisce pure tanto vedi che sono ritornato a 50 dollari sono ritornato a 50 dollari cosa ti sei comprato? delle cose che non so ora come si interessante ah ragazzi compriamo qualcosa insieme prendo le idropulitrici ah no ancora non ne posso prendere le idropulitrici la prendo la tessatura Diego a te da 600 a te ti dà quando lo compri ti darà in tutto sarà 600 il tuo a te ti darà in complessivamente 600 ma ho scritto che ci lascia di 100 dollari premersi insieme ci costeremo 5 dollari ragazzi questo dura di più del secondo sto tagliando ok ragazzi ho comprato questa cosa che non so cosa cambia però c'è scritto che si potrebbe utilizzare per uscire la superficie quindi io l'ho comprata ma come si ripete? come si compaggia? devi tu beh dipende cosa hai comprato io ho comprato la stessa cosa devi premere tab tab e poi devi andare su prolunga ho sbagliato si vede che c'è il coso più lungo ovvio si vede che è più lungo è forte è fortissimo ancora il 4% ci dobbiamo sbrigare non vogliamo che il video dura 3 ore dovremmo fare la moto ve l'avevo detto e poi questo gioco devi controllare ovunque schifo schifo tanto ormai ora per pulire dove vuoi cacciarci basta che pulisci perché tanto andare io un attimo prendo la scala in caso la metto e la metto qui che si deve mettere ok fammi salire ok sono salito e puliamo tutta questa cosa un po' ma serve più che una palla si lo so il bianco è buonissimo per il mio pallo si giuro guarda il bianco è buonissimo io lo sto facendo per il legno ed è pure buonissimo non stavo scherzando però ci metto le lente per il legno è buono il giallo per il metallo è buono il bianco ma sarà che hanno i colori per quello che fanno ok vi ho fatto per scoprire una cosa nuova è buonissimo è buonissimo è buonissimo Qua non vedo altro sport Siamo dal 6%, al 10% ci vediamo verso il 50% perché qui non finiamo altro sport Poi verso il 35% anche Fai dal 35% fino al 40% Cioè dal 35% fino al 45% E' buono anche il verde Per? Metallo Il rosso per il metallo proprio spacca tutto Si però è piccolo Ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione E anche se volete qualche altro gioco che vi possiamo portare ditecelo Vediamo se vi potremmo accontentare oppure no Che non sia quella fabbrica dei giocattoli non abbiamo avuto tutti i giochi però Cercheremo di fare il più possibile Quanto è il 2%? Diego Lo stoppi Ottimo Ok che c'è? Io poi ho visto un gioco da Marci che lo potremmo portare costa anche quello soldi quindi lo potremmo chiedere tipo tra un mese ai nostri genitori un mese e mezzo Dipende che gioco è? Praticamente sei un pompiere Non so se c'è anche qua su playstation Sei un pompiere e ci sono tipo delle persone in casa e anche tu devi spegnere gli incendi e poi devi salvare queste persone Ok Ok allora facciamo un'altra cosa Scudiamo qua Allora quindi cosa stavamo dicendo prima? Scrivete nei commenti quale video, cioè quale gioco vorreste che portiamo Ehm non so cosa cosa non sto riuscendo a fare Ehm ragazzi ci metteremo due anni per dirvi Siamo al 9 per cento dai Se tra poco al 10 per cento e sul drago 70 c'è un po' verso i 50 allora Dio è la prima a fare le cose più grosse Io faccio quello che mi capita davanti Io faccio quello che mi capita davanti Ragazzi questa parte è veramente gigante Quindi visto che dobbiamo andare tutti e due a mangiare Facciamo una cosa Questo video lo stoppiamo qua Anche se durerà poco Cioè forse vabbè E poi ci sarà una parte due Mi so Perchè non potremmo Già ne abbiamo fatti due oggi Che però non ne abbiamo riuscite Perchè erano quelli iniziali Quindi ci sarà una parte due Quindi questo video finisce qua e ciao Ciao